Roberto Rossi confermato procuratore capo di Arezzo. Già il Consiglio di Stato aveva accolto il suo ricorso ma oggi la conferma è arrivata pure dal Consiglio Superiore della Magistratura che a maggioranza, tra le astensioni tra cui quella tecnica del Vicepresidente Ermini, lo ha confermato nel ruolo di procuratore capo presso il Tribunale Aretino. Quest'ultimo capitolo mette così la parola fine alla vicenda iniziata nell'ottobre 2019 quando Roberto Rossi si era visto revocare l'incarico di procuratore capo dal plenum del CSM che in quella circostanza aveva approvato a maggioranza con 16 voti la proposta della Quinta Commissione, relatore il togato Pier Camillo Davigo, contrario alla riconferma di Rossi. Al magistrato veniva infatti contestato un presunto conflitto di interessi tra il suo ruolo di consulente ministeriale e PM nel caso del crack Banca Etruria. A questo erano seguiti ricorsi di Rossi prima al Tar del Lazio, poi al Consiglio di Stato con i quali venivano argomentate le ragioni per il reintegro presso la procura. Dopo oltre un anno di attesa da quei giorni, oggi il CSM ha confermato a pieno il ruolo del magistrato alla guida della procura. di Arezzo